Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 guidare con prudenza per la nebbia a banchi tra Roncobilaccio e Aglio. Sempre in A1 per un'allerta meteo, chiusura del tratto compreso tra l'allacciamento con l'A1 e Rioveggio in direzione Bologna e tra Rioveggio e Aglio in direzione Firenze dalle 9 di domani fino alle 12 del 26 dicembre. Sulla strada regionale 222 Chiantigiana, senso unico alternato e restringimento di carreggiata tra via di Casolina e via Togliatti in località Strada Inchianti nel comune di Greve Inchianti fino al 28 febbraio H24. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Muoversi in Toscana Info